Perché i gatti, quando sono contenti, allungano le zampe stendendo e ritraendo gli artigli come se stessero impastando qualcosa? Questo comportamento è un retaggio di quando il gatto da piccolo faceva lo stesso movimento sulle mammelle della mamma durante l'allattamento. Gli artigli hanno diverse funzioni nei gatti. Sono innanzitutto delle armi, che il gatto impara a usare fin dalla più tenera età. Già a poco più di un mese di vita, i gattini sanno infatti come estendere e ritrarre gli artigli. Gli artigli servono anche per arrampicarsi, mantenere l'equilibrio e giocare. Sfortunatamente per i tuoi divani o i tuoi tappeti, il gatto li usa anche per marcare il territorio. Questo comportamento è innato e serve alla marcatura visiva e olfattiva. Anziché impedirlo, cerca quindi di incoraggiare il gatto a usare dei tiragraffi sistemati in posizioni strategiche. Se il gatto vive esclusivamente in casa, spuntagli regolarmente le unghie con un tronchesino. Premi leggermente su ciascun cuscinetto per esporre gli artigli, tagliando solo la punta trasparente. Fa attenzione a non leddere la parte rosa, che contiene vasi sanguigni e nervi, perché così facendo potresti ferire il gatto e farlo sanguinare. Grazie a tutti! Grazie a tutti.